Ciao a tutti ragazzi, vostro Lee bentornati finalmente in un nuovissimo question Lee con la barba dello zio Lee che inizia a crescere Ragazzi questa volta ce la facciamo fare Jack Sparrow, barba fine in terra, ce la fa, ne esiste, ce la fa Babbo Natale 2 La vendetta del barbuto Mamma mia che titolo di merda Ragazzi, cominciamo con le question Allora Jacksearch2, credo si pronunci così Lee ci fai vedere la tua postazione da gioco e anche la tua stanza Grande Lee si è un grande, grazie mille Allora questa domanda già me l'hanno fatta varie volte ma ci tengo ogni volta a rispondere Perché magari chi non ha visto quel video semplicemente pensa Ok magari adesso avrà messo tutto a posto Adesso capirete perché ho detto questo No, ancora non posto semplicemente perché camera è sempre un macello Il prodotto da provare, quindi tutto sulla scrivania eccetera eccetera Quindi no, non mi va, cioè non si capirebbe nulla Pensate che adesso ho ancora qui sul tappetino la scatola del termalite macho Cioè ce l'ho ancora qua, io uso il mouse e di fianco vado a sbattere contro la scatola del macho Quindi vi lascio immaginare come sto, sto pieno di roba Poi prossima question Comunque sì arriverà il... Quando metto tutto... Quando metterò tutto in ordine sì arriverà il video della stanzetta Sì il bimbo la stanzetta Sì sì ok mamma mia Il video della stanzetta e poi le varie foto del computer acceso, spento, all'interno e quant'altro Tony Cavani Question lì I processori AMD 8350 costano come saprai molto meno degli Haswell Intel Secondo te la differenza di pezzo è giustificata? Gli AMD sono così tanto sotto? Ah se il migliore è poi il simbolo del cuoricino Grazie mille Come si fa il cuoricino? Così? Il sedere di una donna Ok Che male non fa Ok Allora I processori AMD costano di meno innanzitutto perché sono sì sotto Intel Anche proprio come percentuale nel mercato Ecco quindi non potrebbero nemmeno permettersi di mettere tutto a prezzi folli E poi perché diciamo così Mettila sotto questo punto di vista È una delle tantissime motivazioni Quindi cioè se devo stare qua a dirle tutte finiamo tra un mese La più semplice A parità di core e frequenza le CPU Intel vanno comunque di più Cioè sono Passatemi il termine più potenti Ecco a parità di core e clock Questo è quanto Comunque non fatevi spaventare da questo che ho detto Cioè con l'8350 ci fate tutto Cioè letteralmente tutto 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 ci fate assolutamente Addirittura con lo 33 però Con lo 33 Con l'8350 Se avete la mia stessa scheda video La 780 Voi farete più frame di me In Battlefield Esempio Faccio sempre Battlefield l'esempio Farete più frame di me Quindi Per Ci sono dei casi dove Un maggior numero di core Comunque l'8350 è un octa core O sono 8 core Fanno comodo ecco Fanno parecchio comodo Quindi Cioè se vuoi prendere l'8350 Prendilo proprio subito Domani scendi e prendilo Perché È ottimo assolutamente Too much ice Question lì Ma se esistono i messi E questa è un'altra Già ho capito Ma se esistono i messicani Perché non esistono i Ronaldo Gatti Messicani Ronaldo Gatti Non lo so E poi scusami Messicani Messico Ronaldo Gatti Che I I Ronaldo Gatti Quale sarebbe il nome Adesso me lo devi scrivere Nei commenti Bababia Francesco Scrimieri Ciao lì Volevo farti una domanda Come mai Io ho 4GB di RAM E secondo il computer Ne posso utilizzare solo 2,58 Non sono impostato I file di paging A più di 4GB E un mio amico Ha la stessa scheda video La stessa RAM E lo stesso processore Ma lì 4GB li puoi utilizzare tutti Allora Se hai la stessa scheda video Attenzione Non integrata Intendo che tu apri il computer E ci sta la scheda Cioè la scheda Nello sort PCI Express Allora devi andare in Non mi ricorderò mai Il menu nel BIOS Ma Se mi sbaglio Nel Nord Bridge Una cosa simile Sì il Nord Bridge Dovrebbe essere E dovresti cercare Una voce che si chiama Memory Remap Remapping Memory Un nome simile a questo Comunque E dovresti abilitarlo In quel caso Potrai vedere tutto Da apposto Assicurati ovviamente Di avere il sistema operativo A 64 bit assolutamente A 64 bit deve essere Se invece non hai La scheda video Quindi apri il computer E non hai la scheda video Ma come stessa scheda video Del tuo Amico Cugino Non ricordo Del tuo amico Se come stessa scheda video Vuoi dire La scheda video Integrata Allora Sempre nel BIOS Devi andare a vedere Quanta RAM Dedichi Alla grafica Integrata Questo è quanto Se non funziona Nessuna di queste cose Che ti ho detto Poi riscrivi E vediamo Come risolvere A tutto C'è una soluzione Borelli99 Ciao lì Volevo chiedere Se potevo fare un video Su cosa si deve fare Dopo il montaggio Del computer Su come configurarlo Grazie Ne anticipo Sempre il migliore Grazie mille E guarda L'unica cosa che manca È il BIOS Cioè In realtà Nel video D'assemaggio Manca il BIOS E la formattazione La formattazione Non l'ho messa Perché ho già fatto Due o addirittura Tre video Su come si formatta Il computer Mentre per il BIOS Ho già fatto tutto Nelle tre domeniche scorse Sì Mi sembra di sì Ho fatto tre tutorial Dove ho parlato Della modalità HC Come si imposta E come si fa La prima Diciamo così Configurazione del BIOS Quindi Le voci fondamentali Da Da cambiare Questo è quanto Tieni conto comunque Che ogni BIOS È diverso Quindi dovrai Dovrai fare un attimino Occhio Ai termini E quant'altro Ma generalmente Le voci Cioè Se vedi cito HC Capisci che si sta parlando Dello storage Per esempio Chiaro HiAppDevices Question lì Qual è stata la tua Più grande figuraccia Non lo so Probabilmente Farmi vedere in video Sono una testa di cazzo Quindi probabilmente Questa è la mia Più grossa figuraccia Oppure la più grossa figuraccia Che sto facendo È questa Che sto facendo In questo momento Va bene Andiamo avanti Prima che veramente Faccio la più grossa Figura di merda Opa Un po' più in alto Non c'è Emilio Question lì Perché non hai un telefono Android Cosa ne pensi Del sistema operativo Android Mamma mia Consigli sul tastiere Maus da gaming 50 euro l'uno Secondo te Mamma mia Quante domande Un i7 920 per quanti anni Resta ancora buono Per il gaming Anni Un po' dura Con quanti anni Io forse lo cambierei già No beh Ma tra poco Lo cambierei Cosa ne pensi Del 4K Cosa ne pensi Di un telefono Assembrabile come un PC Conosci Motorola Project Ara Macello di domande Vediamo di rispondere Perché non è un telefono Android Perché non l'ho comprato No Sto dicendo che Il mio smartphone Non mi interessa Non me ne frega niente Di smartphone Cosa ne pensi Il sistema operativo Android Come sopra E tra l'altro Non l'ho mai Nemmeno provato Così a fondo Cioè La mia ragazza Un Samsung Mi ricordo nemmeno Qual è Ma Tipo L'ho guardato E l'ho riposato Basta Non ho fatto nient'altro Tastiera e mouse Da gaming 50 euro l'uno Allora Il mouse 50 euro È il primo che mi viene in mente È l'AVOC Di Cooler Master Ma tastiera da gaming È da 50 euro Quindi mi viene da pensare Che tu vuoi una meccanica Ma a 50 euro Che si trova Aspetta Come che si chiama Della TTSports Del brand Da sport Da electronic sport Della Come si chiama Della Thermalt XI La La Meca La Meca Con la K Meca Scrivi così Meca TTSports E vedi se ti piace Molto carina Anche se non l'ho mai provata Ma la stavo vedendo Settimana scorsa Ho fatto un giro E ho visto Stata a stiera Che tra l'altro Già conoscevo Prova a vedere questa Poi L'i7 920 Io non lo so Guarda Sinceramente Lo avrei Forse già cambiato Un po' troppo vecchio Probabilmente Però Ecco Diciamo Facciamo così Se hai una scheda video Scarsissima Pensa a cambiare Magari prima quella Ok Cosa ne pensi Del 4K Che vorrei provarlo E spero Che i monitor 4K Scendano Cioè Io Quello che vorrei Io è un monitor 4K In In un 21 pollici 21 pollici e mezzo Dovrebbero essere circa Quindi Vorrei quello Cioè Secondo me Assoluto I pornazzi Babbabab Proprio Risoluzione Ok Basta Stai zitto Lì Perché non si parla Di queste cose Su internet È vero Ma Internet Is for porn O come si dice Cosa ne pensi Di un telefono Assembrabile Come un pc Come un pc Cosa Conosci Motorola Project Ara Cosa ne penso Non lo so Sinceramente Cioè Sarebbe bello Assembrare Ok Vai È bello No Cioè Tutti I componenti Chiamiamoli così Delle assembli Scegli tu Magari Cambi la fotocamera Magari Un schermo più grande Se si può fare Magari Non lo so Qualsiasi cosa Moduli per fare qualcosa Non lo so Se sarebbe carino Però Probabilmente Avrei poco interesse In questo Terminale Perché gli smartphone Non è che mi piacciono Però può essere Che questo terminale Magari Mi Mi ispira talmente Tanto Potrebbe prendermi Non lo so Non ho un'idea Molto chiara Cioè A me Come sapete I smartphone Non mi dicono nulla Non mi interessano Però un telefono Assemblabile Potrebbe avvicinarmi A questo mondo Ecco Potrebbe Penso che mi piacerebbe Anche solo Magari non usarlo Ma solo il fatto Di poterci smanettare Vicino È una cosa Che potrebbe Potrebbe piacermi Prossime Question Allora Eccolo qua Questo è CM Channel Iki è un sito affidabile Per favore Rispondimi Grandelisi è un mito Perché non riesco a leggere Fai un po' di zoom Grandelisi è un mito Grazie mille È finita la domanda Sì È un sito affidabile Io ci ho acquistato Tre anni fa Se me ricordo Il mio Il computore Avevo prima di questo Quindi Acquistato Tappo Non mi è successo Nulla Quindi Sì Se ti dico Se vuoi comprare La Compra là E a me è andata bene Alessandro Finlandia Fa un video Dove spieghi Come funziona Steam E tutti i metodi Di pagamento Grazie PS Sei un grande Grazie mille E i metodi di pagamento Li trovi Se non sbaglio Quando scarichi Steam In basso Tra tutte le varie Clausole Privacy E cazzate varie Dovrebbero esserci Tutti i metodi Di pagamento Come funziona Steam Oddio mio Lo scarichi Scarichi Steam È gratuito Ti compri Tutto quello Che vuoi A prezzi stracciati Cioè tipo Ci trovi I migliori giochi Al mondo A 5 euro Quello è qua Questo è qua Giungi al carrello Scarica Basta Cioè questo è qua Paglio ovviamente E scarica Basta Non devi fare proprio niente Poi Abbiamo ancora 4 o 5 domande Circa Francesco Sivo Ciao lì Come sempre Sei il migliore E anche simpaticissimo Ti assicuro che non sono ubriaco Va bene Grazie mille A che cosa serve Una scheda audio Se la tiene già integrata La scheda madre Forse amplifica Il suono Cosa sono Tutte quelle entrate Per i jack Jack non si scrive Con la g Si scrive Jack Jack Se puoi rispondimi Grazie in anticipo Prego il ritardo Allora A che cosa serve Una scheda audio Io l'ho presa Semplicemente perché A parte ti amplifica il suono E poi perché mi permette Lo switch rapido Tra cuffie Tra l'headset Che uso E le casse Io come sapete Registrando spesso Facendo prove Cioè praticamente La mia vita è questa Casse E dopo 5 minuti Sto con l'headset Poi tolgo l'headset E due nuove le casse Stare la Smanettare Dire al computer Non mi va Quindi invece Con la scheda audio Basta aprire il pannello Di controllo Clic E passo All'headset Clic E ripasso Alle casse E gli speaker E sono una cosa Di comodità Nulla di che Cosa sono Tutte quelle entrate Quei jack posteriori Servono per Il 5.1 Infatti Quelli sono Per le casse laterali Il subwoofer E quant'altro Anche se non le ho mai utilizzate Perché non ho un impianto simile E se avessi un impianto simile Molto probabilmente Il mio palazzo Crollerebbe Perché Ascolterei la musica Così alto volume Che Farei crollare tutto Lì ci preoccupi Sì mi preoccupo di me stesso Antonio Costanza Lo fai un tutorial Sull'emulatore Della PSP E magari un giorno Chi lo sa Un tutorial Mamma mia Un tutorial così Non lo faccio da Un anno almeno Penso Comunque sì Magari un giorno Lo farò Anche perché Era nei miei piani C'è un foglio In questa stanza Che non so Che fine ha fatto Ma c'è Ne sono sicuro Dove ci sono Una sfilza di cose Che avrei dovuto fare E che poi comunque Ho fatto col tempo E non ho Provveduto a cancellarle Sul foglietto Ma c'è ancora qualcosa Che dovrei sviluppare Giuseppe Calafato Questo messaggio È lunghetto Sì è lunghetto Giuseppe Calafato Ciao lì ti devo fare Tre domande Ti devo fare tre domande Ok Passi No oddio mio Ah ok Sì Devo fare tre domande Poi c'è lo spazio Non so perché Ti volevo fare tre domande Passiamo alle domande Non so perché Ah sì ok C'è il messaggio sopra Che Nella miniatura Sì avevo sbagliato A scrivere un titolo Grazie mille Provederò a correggere Ti volevo chiedere Perché non fai dei sondaggi Così capisci i video Preferiti dal pubblico Magari li puoi suddividere In classifica Il miglior gameplay Il miglior video Il miglior tutorial Il miglior unboxing E così via Che intendi? Casomai Su facebook La conosci No la pagina Facebook Slash Lysolong E basta Credo Mi spieghi sta cosa Non l'ho capita Potrebbe essere interessante Ma se a voi fa piacere Facciamo suo sondaggio Fammi sapere sta cosa Scrivimela In modo dettagliato La seconda domanda Che non c'è Sicca nulla con l'informatica Va bene comunque Puoi domandare Tutto quello che vuoi Ti volevo chiedere Chi è il tuo comico preferito? Boh Non lo so Non ci ho mai pensato Io ho un comico preferito? Sì Batman Perché è comico? No Batman E' comico No lo so Forse Joker E' un comico Joker Ride sempre Quindi probabilmente Sia un comico Se Joker E' un comico Dico Joker Non lo so comunque Non ci ho mai pensato Al mio comico preferito In finale L'ultima domanda Scusa se ti scoccio Non scocci Ti volevo chiedere Se suonavi qualche strumento Perché dalle tue mani grandi Mi sembra che potessi fare Benissimo il bastista Bastista Ciao Grazie in anticipo Scusa se ti ho creato di surbo Tuo Joff27 Però si è scelto Giuseppe Calafata Vabbè Forse è la Google Plus Vabbè Grazie in anticipo Prego in ritardo Allora A che cosa Ah ok L'ultima domanda Sì Sì Suonavo alle medie Il flauto E poi il flauto in fa Gli strumenti Il flauto La mia professoressa Voleva farmi studiare musica Perché dice lei Dannatamente bravo Forse era il più bravo Della scuola Lì non ti vantare No non mi vanto Me lo disse lei Anche se mi sarebbe sempre piaciuto Suonare il pianoforte Per le mani enormi Non so se Cioè Guardate qua Quante è la mia mano Allucinante Quindi probabilmente Con due dita Potevo fare tutto il pianoforte Da parte a parte Mi sarebbe sempre piaciuto Ma non l'ho mai Non ho mai Dopo le medie Non ho più portato avanti Questa Questa passione E forse Non lo so Magari Forse ho sbagliato Non lo so Però Vabbè Andata così In fatto so che ero bravo Comunque Veramente Fidatevi dello zio lì Poi Prossima domanda Shadled Innanzitutto Sei il migliore Grazie Emilia Ti volevo fare una domanda In base a quali caratteristiche Devo scegliere una scheda video Per fare render 3D pesante Perché tra virgolette E se ci sono altri requisiti importanti Tipo un buon quantitativo di RAM Insomma Cosa cambia Lo scegli pezzi Da un PC da gaming A uno da render E allora In sostanza Cosa cambia Un PC da gaming Ti basta Anche qui tra virgolette Il classico per esempio L'i5 G8 GB di RAM E la scheda video Quella più potente Che riesci a prendere Teoricamente Diciamo così Mentre per fare rendering Dovresti avere una CPU Con quanti più core possibile Quindi magari Un i7 Oppure Un 8350 di AMD Tanta RAM Ma tanta RAM Se vuoi fare rendering pesante Cioè proprio il mini Proprio la base Proprio la base 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 16 GB 32 GB Stai nella media Più RAM mai Più RAM Più RAM mai Un vero RAM mai Cioè tutto attaccato RAM mai È un verbo Oramai Oramai Stai zitto lì Ok Quanta più RAM mai Meglio è E poi Per quanto riguarda La scheda video Sì Anche lì la RAM Centra parecchio Poi comunque Devi vedere i software Che tu usi Magari se supportano Cuda Core O altri tipi di accelerazione Comunque in generale Sappi che le schede Per fare rendering Quindi per lavorare Da workstation Sono le quadro Per Nvidia E le fire Sì le fire pro Per AMD Questo è quanto Però costano un macello Anche se Tecnicamente sono La stessa cosa Delle schede video Da gaming Solo che sono i driver A cambiare Sono Fortemente ottimizzati Per fare solo Cioè non solo Però sono fortemente Ottimizzati per fare Lavori di grafica Tutte queste cose così Infatti Una delle schede Che ricordo Aspetta come si chiama Non mi ricordo La quadro Quattromila Non mi ricordo Sono tipo Due mila euro di scheda E stiamo parlando Nemmeno della top Del top Una delle più costose Che ho visto Tra virgolette Visto Non di persona Su internet Sono dodicimila euro Di scheda Una cosa simile Sono mostruose Comunque Vedi La prima cosa Su cui io punterei Ovviamente Una cpu con Tanti core Tanta potenza E tanta ram Poi Sì Anche ovviamente La scheda video Ad esempio Se vuoi Ripeto Il programma che usi Sfrutta Ad esempio Icuda core Oppure OpenGL Tutte queste cose così Poi bisogna vedere Da software A software Extra potenti Ai rilli Sei un mito Grazie mille Circa due mesi fa Ho assemblato il mio pc Con questi componenti Z87 Aussie formula Gigabyte 780 Samsung 840 Il caviar Black down Terra La 3770k H80i Le RAM Che mi hai consigliato Tu Le Ares Ottime Case CM Storm Striker Ora ti voglio chiedere Se è buona come configurazione Sì Molto probabilmente È più potente Della mia Perché è una cpu Che è più potente Della mia Anche se ormai L'ho assemblato Comunque non ti preoccupare È potentissima E voglia E ti volevo chiedere Se mi conviene passare Da un 3770k A un 4770k Cosa cambia Un cazzo Cioè un cazzo Un cazzo Letteralmente In prestazioni Stiamo parlando Del Non voglio dire Stronzate Perché Non me le ricordo Perfettamente Ma parliamo In gaming Parliamo di nulla Praticamente Cioè parliamo Di 2 fps Se ti va proprio Bene bene 2 fps cambia Proprio nulla Proprio niente 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 Quindi vivi felice Vivi felice Va Cioè il computer È più potente Del mio Lascia fare Quindi Lascia stare Poi L'ultima Siamo all'ultima Tecno Channel Mio padre Dice che è una faccia Che conosce Ma non è mai Stato a Napoli Come te lo spieghi Penso che tu Abbiamo un sosio Cioè Molto probabilmente È così Perché tutti Dicono Assomiti a questo Assomiti a quello Quello Quell'altro Quindi probabilmente Ho una quindicina Di sosio Per tutta l'Italia E niente ragazzi Abbiamo finito le domande Sì Sì Ok Ragazzi Io spero di aver risposto A tutte le vostre domande Nel modo più Esauriente possibile E spero di non avervi esaurito Gioco di No Non faccio ridere Ma perché Stufate Va bene E io E io vi accego Con la mia fronte Tipo il Kaioken Era quello No Aspetta come si chiama Taioken Colpa del sole Ok Colpo del sole Ma brucia No Battutaccia di merda Stai zitto Ok Ragazzi Prima di fare altre figuracce Mamma mia Sono 23 minuti Che sto parlando E ragazzi Il question Finisce qui Io spero vi sia piaciuto E allora Noi ci Ribecchiamo Con un prossimo video A breve Dovrebbe anche Partire quella Serie Chiamiamola così Di Oddio come l'ho chiamata Drag Race Di Di drag Su Su Assetto Corsa Che secondo me È qualcosa di Molto bello Divertente Questo è quanto Ragazzi Noi ci becciamo Ad un prossimo video Bye bye I'm Batman Vedi far far ridere Comigo Batman I'm Batman Hehehe Sì.